I commercianti del centro storico, una parte dei commercianti è sul piede di guerra per questo cambio di viabilità dovuto ai lavori di restyling di Piazza Duomo, parliamo di Corso Federico II, quali saranno le tempistiche e cosa si potrà fare per ovviare questo disservizio che comunque sarà protratto poi anche nei mesi successivi per i lavori di ripavimentazione di Corso Federico II? Allora sì, è stato necessario appunto fare questa inversione di marcia su Corso Federico II fatta soprattutto per permettere comunque ancora l'accesso almeno agli autorizzati da via Cimino e quindi poter percorrere il maggior tratto possibile della parte alta della piazza e di Corso Federico II. Abbiamo quindi dovuto procedere poi alla variazione anche del senso di marcia di via Sant'Agostino dove abbiamo permesso poi l'accesso su Piazza della Repubblica e la discesa poi dei veicoli su via delle Buone Novelle. Mi rendo sicuramente conto che è una situazione che va a stravolgere quelle che sono le abitudini e le consuetudini sia dei commercianti che dei cittadini dell'Aquila. La necessità però era proprio quella di inibire l'accesso su quella porzione di piazza proprio per consentire che i lavori potessero essere terminati. Sicuramente la situazione perdurerà ancora perché sarà necessario poi proseguire anche i lavori di pavimentazione della parte di Corso Federico II che manca. Ci sono però anche delle buone notizie quelle che riguardano la strettoia di Monticchio perché si è arrivati fortunatamente a un punto di svolta. Sì infatti è proprio di questa mattina la notizia della riapertura della porzione di SP36 che incontra proprio la frazione di Monticchio. È stato un lavoro abbastanza lungo purtroppo che però ci ha permesso in cinque mesi di poter eliminare tutta quanta la struttura tubolare che insisteva su quella strettoia e ci ha permesso appunto di mettere in sicurezza gli edifici sia a destra che a sinistra insieme con l'aiuto sicuramente dell'USRA nella persona di Salvo Provenzano, delle ditte e dei tecnici che si sono poi avvicendati perché voglio ricordare che parliamo di tre aggregati diversi o meglio di tre strutture differenti, un aggregato privato, la casa canonica gestita dalla diocesi e non ultima la chiesa gestita dal segretariato.